fallimenti credo che la nostra umanità non abbia fatto altro che collezionare fallimenti dal fallimento dell'olocausto a quello del totalitarismo al grande fallimento del controllo tecnologico totale commento non esiste nessun fallimento ma solo avanzamento verso la consumazione dell'io che abbatte la divisione e la separazione l'evoluzione è zoppicante ma cammina sempre verso il meglio grazie